Noi siamo due studentesse del liceo classico Alessandro Torlonia e oggi insieme alle altre scuole ci siamo uniti per commemorare la giornata dello studente, ovvero il 17 novembre, giorno in cui furono fucilati senza processo in piazza nove tra studenti e professori per aver manifestato il loro diritto allo studio. Noi oggi ci siamo riuniti sfilando in corteo e portando uno striscione realizzato da tutte le scuole e altri cartelloni che esprimevano le nostre considerazioni al riguardo. In piazza, quando siamo arrivati correndo in piazza da via Corradini, in piazza c'è stato degli sketch musicali poi purtroppo per la pioggia ci siamo dovuti fermare ma la giornata è continuata sotto i portici in cui sono stati tenuti discorsi che poi sono continuati sul palco e adesso continuiamo la giornata nel migliore dei modi ma una giornata che è dedicata a noi, agli studenti e al nostro diritto allo studio. Grazie.